Per la penultima dell'anno solare molte assenze ma anche alcuni recuperi per Angelo Spina. Forfè da parte di Pistone, Vancolle, Quattrocchi, Iuvara, Biasco e Cappello pronti a rientrare Caramagno in difesa dove c'è l'impiego da titolare di Zingali e capitana Galeardi in mediana. Per l'attacco dal primo minuto c'è Caruso nel tridente, vincere dopo un mese l'imperativo categorico dei Notai nel segno del vento forte ad Acicastello. I tre davanti in maglia blu combinano per la prima occasione della mattina Riolo e Aleo, confezionano per Caruso che a giro di destro la spedisce di poco alta. Notai in gol al minuto 10 ma l'arbitro Zappalavede qualcosa di non meglio imprecisata in regolarità quando Zingali la smista in verticale sul Riolo e Scepolitano. Caruso la deposita nel sacco ma è tutto vano. Più avanti Salzano per Arcidiacono che detta il tempo dalle parti di Caruso. Cambio fronte per Riolo che la allunga all'ingresso dell'aria, Cicci Forum non riesce a liberare, Aleo la riprende, sterza e la indirizza sotto l'incrocio ma Politano salva con un gran balzo evitando il KO. Per Cicci il primo pericolo nasce da una giocata orizzontale a metà tempo che procura un tiro da distanza ravvicinata di Vicarelli alta di poco. E ancora lo stesso propositivo numero 18 ospite che stavolta zecca la porta ma pensa bene e lo ferma con decisione deviando un pallone abbastanza critico. In corner la terza Chance è di Garofalo che in scivolata non trova il gol davanti la porta e fa seriamente tremare i notai che vanno vicini alla capitolazione per altre due volte nel segno di Tomaselli. Due occasioni dunque per Cicci Forum che vanno a vuoto e non le sole perché a chiudere i conti del primo tempo sulle reti bianche ci sono anche un tiro di scuderi alto e soprattutto una punizione concessa in modo dubbio per intervento di Salzano su Vicarelli che chiama di nuovo in causa l'ottimo Enrico Pensabene su Cantone. Dall'altro lato qualche protesta per i notai a causa di una trattenuta in aria proprio sullo duplice fischio arbitrale e si va così al riposo sullo 0-0. Per Cicci Forum è Navarria a provare a sbloccarla di testa ma la mira è imprecisa quando inizia il secondo tempo poi interviene di nuovo pensa bene a salvare il risultato su Penisi con una mega parata decisiva ai fini del risultato. Cambi per i notai poco prima del quarto d'ora dentro a Taguile fuori Galeardi qualche minuto più avanti dentro Ursino fuori Riolo. Finiti i rischi si prova l'assalto per i tre punti notai cercano il gol con una certa insistenza Salzano per Aleo che lascia sfilare dalle parti di Caruso il quale però si allunga troppo il pallone lanciato da solo verso la porta. Poi Andriolo spinge in fascia a Taguile preciso lancio nel cuore dell'area dove Cusumano spreca un'occasione d'oro. E allora subito la risposta a Cicci Forum con Navarria sempre di testa e sempre pallone fuori e poi con Cantone parte un cross dopo controllo prolungato ma Penisi arriva in ritardo all'impatto con la sfera. Quando il tutto sembra bloccato sotto rete a due dalla fine la svolta della partita purizione della tre quarti di Arcidiacono Navarria nel tentativo di liberare serve Gabriele Cusumano che porta a casa gol il primo stagionale tre punti per i notai e seconda vittoria dell'anno con tanto di esplosione di gioia per un sabato eroico che consenta ai notai di salire a quota sei punti e guardare con ottimismo all'immediato futuro dopo tre K.O. consecutivi. Incontenibile la gioia di Cusumano per un gol che rivediamo un gol partita, un gol importante. E allora resta il tempo nel recupero per qualche battuta di gara affidata a Sab in campo per Aleo poi la chiusura match e notai che tornano a gioire soffrendo. L'opportunità di centrare un mini filotto di successi adesso contro i commercialisti sabato in occasione dell'ultima di andata. è stata una partita guerrita, siamo contenti di averla portata a casa anche perché abbiamo giocato molto bene e è arrivato all'ultimo e adesso dobbiamo continuare sicuramente così che non ci vogliamo fermare solo a questa vittoria. Abbiamo meritato il risultato e ci teniamo a continuare così. La dedica per quel gol? La dedica è per mia nipote che è nata stanotte, per Alice e quindi tanti auguri a Davide che è mio fratello e a Firenze che è sua moglie. Tanti auguri, un bacione a tutti.